partiti in vantaggio Nemosine davanti a Orpen Natik, Rampafinran, Tarbus La Grigia, Pontati Ruboldo ed Antiquarium dopo 300 metri di scorta in vantaggio Nemosine davanti a Orpen Natik Rampafinran La Grigia Tarbus Uboldo Antiquarium all'inizio della curva in leggero vantaggio Nemosine davanti a Rampafinran Orpen Natik Pontatir La Grigia Antiquarium Tarbus Duboldo poco prima dell'ingresso addirittura sempre in leggero vantaggio Memosine davanti a Rampafinran Orpen Natik e Pontatir i cavalli entrano in dirittura con Orpen Natik allo steccato con all'esterno Memosine seguono Rampafinran Uboldo La Grigia Pontatir e a centropista Antiquarium e in leggero vantaggio Uboldo davanti a La Grigia Antiquarium a centropista Pontatir Rampafinran e in vantaggio Uboldo attaccato all'esterno dalla grigia passa la grigia davanti a Uboldo Antiquarium come Pontatir e in leggero vantaggio e in leggero vantaggio e in leggero vantaggio Pags vantaggio o lingui apag vantaggio 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 b